Io andavo in montagna, i miei andavano in montagna, c'erano le mucche e se tu guardavi le mucche e vedevi che se c'era l'erba secca e l'erba fresca, la mucca andava a mangiarsi l'erba fresca. Se c'era troppo sole, la mucca se ne andava all'ombra, no? Mucche al pascolo ovviamente, in cui una volta in montagna perlomeno le mucche facevano una vita sana da mucca, diciamo, no? Erano liberi al pascolo, vabbè, e quindi era una roba già completamente diversa. Comunque, anche le mucche vanno alla ricerca della felicità. Nessun essere vivente credo che vada alla ricerca dell'infelicità, però spesso noi non sappiamo come trovarla, no? C'è chi pensa che la felicità si trovi nel crack, c'è chi pensa che la felicità si trovi nel vino, c'è chi pensa che la felicità, come sissi, si trovi nel matrimonio con Pippoli. E certo, il matrimonio con Pippoli ti potrà dare un minimo di felicità, no? Certo, ad esempio, anche la passione vissuta con Pippoli ti potrà dare quei 3-4 secondi di felicità, quei 3-4 secondi che poi si esaurisce tutto, perché 3-4 secondi, compreso vestirsi, rivestirsi e fare la doccia, quindi tutta una roba molto veloce, però diciamo che il tempo è relativo. In fondo, in 3 secondi, uno può vestirsi, farlo, svestirsi, farlo, rivestirsi, fare la doccia, e insomma tutto nel giro di 3 secondi uno dice una felicità veramente effimera, e quindi però anche un istante di felicità vale comunque qualcosa, no? Allora, quindi questo è importante, no? Quindi non devi, allora, se vuoi essere triste, diciamo, nessuno ti potrà rendere felice. Dobbiamo tenere presente questo, se tu vuoi essere triste, nessuno ti potrà rendere felice. Questo devi tenerlo presente. Noi non possiamo essere felici se non decidiamo di esserlo, e non possiamo essere felici se non andiamo a cercare la felicità al nostro interno, perché è soltanto al nostro interno che noi possiamo trovare la felicità. Dobbiamo sviluppare anche un carattere, un carattere forte, perché siamo felici se sappiamo affrontare anche le cause esterne, se sappiamo affrontare anche le situazioni che all'esterno ci possono portare, diciamo, dobbiamo imparare ad affrontare le situazioni esterne. Però noi deleghiamo la felicità ad altro, no? Una persona potrà dire se diventerò ricco sarò felice, se sposerò pippoli sarò felice, se, che ne so, se tornerò giovane sarò felice, se mi passeranno le rughe sarò felice, per dire, no? Ma in realtà non è così, non è così. Noi cerchiamo di avere un approccio scientifico alla vita, ma in realtà dovremmo avere un approccio olistico, perché se la tua vita fosse una pianta, prova a fare questa metafora, se la tua vita fosse una pianta, come la vedresti? Una rosa appassita? Abbiamo qua roxy rosa, abbiamo roxy rosa e rosi. Come la vedresti la tua pianta? La vedresti una rosa mezza appassita? Oppure la vedresti una rosa rigogliosa? Come la vedresti la tua vita? Perché molte persone, diciamo, nonostante dicono io qua, io là, vedono poi, si vedono come una rosa mezza passa, una rosa appassita, che sta per schiattare fondamentalmente. Quindi noi, però, affinché questa rosa, la rosa che cos'è? Di fatto poi è una rosa appena sbocciata, di fatto poi la rosa è la nostra anima fondamentalmente, no? La rosa poi è la nostra anima. E quindi dobbiamo prenderci cura della nostra anima, dobbiamo innaffiarla, dobbiamo nutrirla, dobbiamo difenderla dal gelo, come faceva il piccolo principe, no? Il piccolo principe si era innamorato della sua rosa perché la nutriva, la proteggeva dalle intemperie, la innaffiava, se ne prendeva cura. Però la rosa deve essere la nostra anima, come diceva Antoine de Saint-Exupéry, nel piccolo principe, dobbiamo prenderci cura della nostra rosa, ma la nostra rosa non è una persona esterna, la nostra rosa, secondo me, deve essere la nostra anima, deve essere la nostra interiorità. Quindi, questo è il concetto, perché, certo, vale anche nei confronti degli altri, no? Se tu ti prendi cura, se come rosa, in te,